Sono Chiara Camiglieri del liceo Kennedy di Roma e oggi ho deciso di partecipare perché credo che in un mondo che è sempre più maschilista in un campo informatico e di programmazione, credo che un contributo femminile potrebbe aiutare sicuramente. Ho deciso di partecipare a questo progetto perché ho già partecipato a alcune classi di programma e ho trovato molto interessante. Quando la mia professora parlò di questo, ero molto felice e non posso aspettare a cominciare. My name is Ashley Gavin, I'm from New York and I'm currently a computer science education curriculum consultant. Formerly I worked at Girls Who Code as the director of curriculum. I'm really excited to be here working with the girls, teaching them how to code. It's always really exciting for me to meet lots of different kinds of students and see how different education systems are working around the world and I think, you know, we need to conquer this problem of women in computer science, not just in the United States and I'm really excited. My name is Elizabeth Cottle and I'm also from New York. I am the East Coast director for Girls Who Code and like Ashley, I'm also very excited to be here. Even though right now our programs are only in the US, we really feel it's our responsibility to have girls coding worldwide because we want to decrease the gender gap in the technology sector. So we're really excited to be here in Rome and working with the girls. La Fondazione Mondo Digitale è entusiasta di portare a Roma tra le scuole romane questo progetto di Coding Girls che vede 400 studentesse delle scuole superiori e non romane avvicinarsi al coding. Tutto questo è permesso grazie a una partnership di eccezione con l'Ambasciata Americana e speriamo che questo sia solo l'inizio di un gran futuro insieme. Grazie a tutti.